Ciao, sono Giacomo Bisconti, struttore nazionale di sci alpino. Oggi proviamo in anteprima il nuovo Rossignor Hero Master. Lo sci è di derivazione agonistica, completamente rinnovato. Questo si traduce in pista con delle sensazioni strabilianti, una conduzione davvero potente, un'entrata in curva molto reattiva e un'uscita di curva che slancia per la successiva. Questo è un prodotto di altissimo livello. Si apprezza la nuova struttura in Titanal in termini di aderenza. Questo permette durante la sciata maggiore stabilità. Il design è davvero bello, pulito e accattivante, degno di un materiale di altissimo livello. Io ho scelto il mio raggio, ho scelto questo sci, ho scelto il mio attrezzo. Voi scegliete il vostro. Io ho scelto il mio raggio, ho scelto il mio raggio, ho scelto il mio raggio.